Sì, ho visto la partita che hanno fatto il campionato con il Vicenza, ho visto il 2 di Coppa Italia e sono una squadra compatta che ha una identità e sono bravissimi sulla regressione, sulle seconde palle, le fanno molto bene, è una squadra che ha coraggio, questa è la cosa che probabilmente mi è piaciuta di più, che hanno sfruttato molto bene le palle inattive, hanno fatto 4 gol su 5 da calcio d'angolo e una su una seconda palla, quindi dovremmo prestare massima attenzione a questo dettaglio. Abbiamo cercato di lavorare sulle cose che abbiamo fatto meno bene nella partita di domenica, abbiamo analizzato il video in settimana e quindi insieme con i ragazzi abbiamo cercato di focalizzarci sulle cose fatte bene, sulle cose fatte un pochino meno bene e quindi ci siamo allenati su questa cosa, sulla linea difensiva e sulla finalizzazione degli ultimi 30 metri. I ragazzi stanno bene, abbiamo entusiasmo, vogliamo ripartire bene, ripartire alla grande perché sappiamo che domenica siamo usciti con 0 punti e questa deve essere una cosa che ci deve erodere un pochino dentro e avere un senso di rivalza importante. Quello che chiedo anche ai tifosi è un po' di fiducia in questa squadra, un po' di positività perché io capisco benissimo che un tifoso nello stadio critica le cose, però siamo una squadra giovane, dobbiamo vivere anche di queste cose, vivere di entusiasmo, vivere di tutto l'ambiente che ci dà una mano perché dobbiamo essere tutti insieme a raggiungere l'obiettivo e poi toglierci le soddisfazioni.